Il giorno e la storia. Oggi è il 30 dicembre. 1922. Fondata l'URSS. 2006. Impiccato l'ex raiz iracheno Saddam Hussein. 2002. Stromboli. Terremoto fa staccare due rocce dalla sciara del fuoco. Commenta il fatto del giorno Antonio Rizzolo, direttore di Famiglia Cristiana. Il protagonista di oggi di cui vi voglio parlare è Rudyard Kipling, l'autore del Libro della Giungla.